salve a tutti ben trovati sul mio canale oggi con questo video voglio farvi vedere come poter mandare via i cattivi odori dalle nostre scarpe sicuramente a tutti voi sarà capitato di portare le scarpe magari tutto il giorno e appunto al momento in cui si tolgono il metodo per contrastare i cattivi odori delle scarpe è naturale e semplicissimo ed è il bicarbonato di sodio ricordate che il bicarbonato di sodio ha delle proprietà eccellenti è un antifungicida è un antisettico riesce ad assorbire naturalmente tutti gli odori ora vi faccio vedere come utilizzarlo ora cosa dobbiamo fare la sera una volta tornati a casa leviamo le non ci leviamo le nostre scarpe prendiamo il nostro bicarbonato un cucchiaio inseriamo all'interno due cucchiai di bicarbonato ora chiaramente non li dobbiamo lasciare così prenderemo la scarpa la muoviamo in maniera che il bicarbonato vada in giro per tutta la suola e all'interno della scarpa ecco la lasciamo riposare tutta la notte con il bicarbonato all'interno la mattina successiva prenderemo una scarpa e la svuoteremo chiaramente vedrete subito il miglioramento la scarpa risulterà fresca e tutti i cattivi odori saranno andati via dalle nostre scarpe spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto potete scrivervi sul mio canale dove potete trovare altri video ed altre curiosità e mi raccomando se questo video vi è piaciuto condividetelo e mettete un like grazie a tutti al prossimo video